Salve cari amici, eccoci qui con la seconda edizione della rassegna stampa di oggi 21 gennaio 2018, vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Sayuz e Pianeta Oggi TV Mafia, il giornale di Sicilia contro Mediaset, film su francese ci danneggia, dicono, nella sentenza i rapporti tra editori e boss il cronista ammazzato da Cosa Nostra nel 1979 per una serie di inchieste sgradite alle cosche oggi il suo giornale contesta la fiction per ricostruire i legami tra i padrini e il padre dell'attuale editore l'ennesima occasione utilizzata da alcuni sedicenti moralisti, esponenti di un'antimafia sempre più parolaia e di maniera per gettare discredito, dicono, ma nelle motivazioni della Corte d'Assise d'Appello i giudici parlano di rapporti provati che legavano proprietari ed editori a parecchi esponenti mafiosi con la nostra start-up in Italia lavoriamo in tutto il mondo, senza ritmi, forse nati Luca Reginato, informatico di professione, ha fondato Pagination, i punti di forza sono tecnologia pochissimi straordinari e un team under 40 uno degli ultimi cataloghi ci è stato commissionato da un'agenzia che si occupa di creare le guide per gli studenti di oltre 200 università americane Pedofilia è il caso del vescovo Barros divide il Papa e il Cardinale O'Malley dichiarazioni di Francesco Dolorose dice non usa mezze misure il Cardinale di Boston per attaccare Bergoglio in merito alle dichiarazioni rilasciate durante il viaggio in Cile sul vescovo di Osorno mafia a Palermo c'è un nuovo pentito, 5 persone fermate, c'è anche il figlio dell'autista di Irina l'ultima operazione della direzione distrettuale antimafia di Palermo è stata ordinata a tappe forzate per evitare che i sospetti fuggissero ed ha beneficiato delle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia in carcere è finito anche Giuseppe Biondino, figlio di Salvatore Biondino autista e uomo di fiducia del capo dei capi di Cosa Nostra da Bologna alla Tate Modern l'italiano Lissoni dice parchi agroalimentari e sgomberi inaccettabile che si ricostruisca l'identità della città privatizzando con la chiusura della maggior parte degli spazi autogestiti e l'apertura di Fico nel capoluogo dell'Emilia sembra imporsi un nuovo modello culturale secondo uno dei senior curator della galleria di Londra che sotto le due torri ha cominciato la carriera professionale detto che è un grave danno un inferto alla città cari amici con questo è tutto vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV buon proseguimento con i programmi buon proseguimento con i programmi